Musica Buonasera e ben trovati. Torniamo ad occuparci della tragedia che lo scorso gennaio ha colpito il centro Italia. Prima il terremoto e poi la neve, la valanga sopra l'hotel Rigopiano e la macchina dei soccorritori in difficoltà. A fare la differenza ancora una volta i volontari, una delegazione partita anche da Livigno e questa sera vi vogliamo raccontare la loro esperienza. Qui con noi il primo cittadino, il sindaco Naviano Bormolini. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Al suo fianco abbiamo Antonio Battagliese. Buonasera a tutti. Antonio, benvenuto. Abbiamo Fabrizio Rodigari. Buonasera. Benvenuto Fabrizio. Ivan Bormolini. Buonasera. Benvenuto Ivan e Davide Cusini. Buonasera. Ho detto molti di più i ragazzi che hanno partecipato a queste operazioni, che sono partiti a più riprese da Livigno e che oggi non sono con noi ma che vogliamo ricordare. Ivan Bormolini, innanzitutto hai fatto parte della prima squadra di volontari che sono partiti. Vuoi magari spiegarci come vi siete attivati? Beh, è partito innanzitutto, sono partito da Alessandro e Igor che hanno deciso di scendere. Alessandro dicendo con Igor scendiamo, Alessandro ha detto va bene andiamo. E Igor... Avevano un contatto? Non avevano niente. Avevano tanta buona volontà. Avevano voglia di fare qualcosa. Avevano capito che vi erano delle difficoltà... Di dare una mano. Sono partiti, si sono messi d'accordo con Davide che poi è sceso a Tirana a prendere il billico, caricato i trattori e loro sono scesi. Il giorno seguente siamo scesi io e Matteo con un tank di gasolio per andare a raggiungerli. Che giorno era, te lo ricordi? Il 25. E quando hai deciso di aggregarti? In quanto tempo hai deciso? Mezz'ora. Mezz'ora ho visto che Matteo aveva pubblicato in Facebook che cercava un compagno per scendere in Abruzzo. L'ho chiamato, lui mi ha detto sono da solo, mi ha detto se vuoi vengo insieme. Mi sono messo d'accordo col titolare e da lì siamo partiti. Il tempo di preparare la valigia è partire. Quale comune avete raggiunto? Noi siamo partiti dal comune di Penne. Avete raggiunto il comune di Penne? Come mai proprio questo comune? Siamo partiti dal comune di Penne perché poi l'Alberoni Anthony ci ha dato lui il contatto, visto che è lì dalla zona, ci ha dato il contatto dove cominciare a lavorare. Sei partito la sera? Sì, siamo partiti da Levigno verso le 4. Siamo arrivati a Pescara perché poi ci siamo fermati a Pescara verso le 2 di notte. E quando sei arrivato? Che cosa? Al momento niente, pensavamo che perché a neve non se ne vedeva. Quando poi siamo entrati, siamo arrivati a Penne e lì cominciava a vedersi la neve. Quanta neve c'era? Siamo arrivati appunto di trovare 3-4 metri di neve. E ti ricordi di aver mai visto tanta neve così a Levigno? Io qua no. No, no. Secondo me si sono trovato tanto in difficoltà perché non sapevano come reagire. e prevedo che se succeda anche qua può essere un problema anche qua così tanta neve. Vi era neve ovunque immagino, quindi muraglioni di neve? Sì. Le strade? Le strade inagibili perché loro avevano delle pale ma con i muraglioni così alti non potevi far niente. Quindi per forza ho bisogno di una fresa per riuscire a aprire un barco. Ecco Ivan, vuoi spiegarci com'è partito questo gruppo da Levigno? Perché come hai detto tu, due ragazze hanno messo a disposizione i loro trattori, si sono resi disponibili ad andare in centro Italia, ma insomma non bastavano i trattori, serviva un mezzo per poterli trasportare, serviva qualcuno che gli facesse strada, servivano... Sì, allora Alessandro Claudio ha messo a disposizione i suoi due trattori, Igor ha messo a disposizione il camion per il trasporto dei trattori, il Matteo Desi per comunque portare attrezzature ai pezzi di ricambio e poi basta. Eravate in pochi? Siamo partiti, eravamo in 5-6. In 6, ecco, e una volta che siete arrivati lì, appunto grazie anche ai contatti che la polizia locale aveva aperto con questi amministratori, voi avete capito subito come e dove operare? Come e dove? Non ti dicevano libera questa strada qui, però andavamo tutto circa perché le paline di segnalazione loro non ne hanno e noi le abbiamo. Quindi dovevamo capire anche la strada dove era. Quanto larga fosse? Quanto larga era, non si sapeva niente, andavamo alla cieca. E quindi siete arrivati e non siete neanche scesi, avete scaricato i mezzi e avete iniziato subito? Sì, Alessandro e così hanno cominciato subito, perché loro sono arrivati il giorno prima e noi la mattina dopo alle 7 abbiamo cominciato anche noi a dare loro i cambi, uno camminava davanti e capire più e meno dove era la strada. E con voi c'era qualcuno del posto? È arrivato un responsabile del comune, però anche lui diceva, non ce la ricordava la strada, perché comunque con tanta neve così, sembrava tutto uguale. E quindi voi una volta che avevate liberato una strada vi spostavate e andavate a liberare le altre? Sì, perché poi lì parli tutte di frazioni, comunque è come andare in Valfederia, liberi quella e poi ti fanno scendere e ti fanno magari liberare il Costaccia. Sono tutti paesini così. E quindi avete lavorato di giorno ma anche di notte? La sera fino alle 10 e mezza comunque lavoravi, a partire la mattina alle 7, 10 e mezza la sera più o meno. E spesso l'obiettivo era raggiungere le abitazioni isolate? Le abitazioni perché comunque loro, dove siamo arrivati noi, erano già 5 o 6 giorni che erano isolati, quindi la priorità era da riuscire a liberarli che potessero muoversi. Vi sono stati anche dei momenti tragici? Sì. Avete dovuto liberare anche delle strade dove, insomma... Dove comunque c'è stata gente deceduta comunque, però l'abbiamo fatto. Ecco, cosa vi dava la forza, l'energia? Come vi ricaricavate? Perché immagino fosse anche una situazione abbastanza difficile. Ma la ricarica secondo me te la dà la gente. Quando ti vede comunque arrivare, che ti accolgono come se fossi... Non dico un figlio, comunque se fossi a casa tua, la forza te la dà loro. Li vedi sorridere, li vedi contenti, mille ringraziamenti, penso che basta quello. Dormire? Dormire, noi dormivamo dagli alberoni, ha messo lui a disposizione la sua casa e dormivamo lì. Quindi tornavate a penne tutte le sere. E come vi organizzavate invece per mangiare o per... Mangiare dove ci trovavamo. C'era comunque quello dell'abitazione che ti diceva dai, fermatevi, venite a mangiare qualcosa e poi vi lascio ripartire. Ecco, un comune come Penne per esempio, quanti mezzi aveva a disposizione per pulire le strade? In quanti eravate? Dove eravamo noi, eravamo noi e basta. Solo con i trattori? Sì, solo con i trattori. Loro hanno due mezzi, comunque però mezzi piccolini, non sono dotati di frese, quindi sono solo pale meccaniche, non possono riuscire a fare quel lavoro. Non sono mancate le difficoltà e tra queste anche, insomma, la rottura di un trattore, perché insomma furia di utilizzarli, di forzarli. E una sera dopo 14 ore il trattore purtroppo ha ceduto. Abbiamo avuto problemi con dei parastrappi e un perno, un albero e lì ci siamo dovuti fermare. Abbiamo cominciato, abbiamo smontato i pezzi, abbiamo sentito il Kruppi che era il referente comunque dei trattori in Valtellina e lui ci ha dato due indirizzi dove puoi andare a spostarci. Come vi siete mossi? Come avete, diciamo, non erano proprio dietro l'angolo questi luoghi dove riparare il trattore? No, allora i pezzi non li abbiamo trovati a Ancona, quindi partivamo da Penne, andavamo a Ancona, caricavamo i pezzi e poi ci andavamo nell'officina di censori a sostituirli. Perché siete andati più volte? Due volte. Quanti chilometri? Erano due ore di viaggio, quindi penso 120-130 chilometri. Poi lo avete riparato e avete completato il vostro? Ho finito quello e abbiamo ricominciato subito. Quanti giorni siete rimasti lì, Ivan? Cinque giorni noi. Cinque giorni noi e invece l'Alessandro, il Davide, il Valentino e il Gui sei giorni. E il Ceno anche c'era. Dopodiché quando avete completato questo intervento che prevedeva appunto la rimozione della neve da tutte le stradine per raggiungere tutte le frazioni che erano tantissime inizio. Esatto, erano due frazioni ma con tante stradine. Una volta completato quello per noi il nostro lavoro lì era finito. Comunque con mezzi così grandi non si poteva fare altro. Siete andati anche a Farindola? A Farindola anche, sì. E come comunicavate lì? Che cosa, che notizie vi arrivavano? Ma non gli arrivava ogni tanto quello dal comune e ci diceva è successo questo, è successo l'altro, ma un po' fuori. Poco i telefoni che ti aggiordavi, basta. Sui social più che altro? Però insomma lì di notizie ne arrivavano poche. Poche più che altro. Però sapevate che per esempio a Rigopiano l'hotel era stato sommerso? Sì, quello sì, sapevamo tutto. Sapevamo che poi è scesa un'altra valanga, due giorni dopo, tre giorni dopo è scesa una valanga. Noi in linea d'aria eravamo a due chilometri, però visto che era una zona rossa a noi non ci davano il consenso di entrare. E comunque con i vostri mezzi non avreste potuto fare nulla? Ma qualcosa magari si poteva fare come niente, anche perché troppa gente tutta ammassata non si riesce a lavorare. Antonio Battagliese, di nome di fatto, mi pare di capire, tu hai accompagnato un altro gruppo, il secondo gruppo, quello dei volontari, che così chiacchierando tra amici hanno deciso di intervenire, di dare una mano perché nonostante le strade fossero state riaperte vi erano ancora molti borghi isolati, neve dappertutto e soprattutto una certa impotenza della gente del posto a liberarsi, è vero? Sì, noi addirittura volevamo partire già la domenica sera, ma ci trovavamo solo in due, io e l'Andrea Silvestri, così abbiamo deciso di aspettare qualche giorno e rinviare la partenza per recuperare più gente possibile. Questo quando? Già noi il sabato, loro sono partiti il venerdì, già il venerdì sera al bar ci siamo trovati per organizzare il tutto, facendo conto di partire già domenica, solo che uno col lavoro non riusciva, l'altro neanche. Abbiamo aspettato due giorni in più, il martedì abbiamo riunito dieci volontari e siamo partiti. Siete partiti con due mezzi? Sì, perché all'inizio pensavamo di utilizzarne solo uno, ma ringraziando la popolazione di Livinio che ci ha fornito beni di prima utilità, coperte, piumoni, giacche, abbiamo dovuto trovare un altro mezzo per poter portare più roba possibile, perché avevamo scaldine elettriche, avevamo di tutto e di più, i nostri badili picconi, perché là non ne vedevamo. Ecco, il vostro obiettivo era di spalarnevi a mano? Sì, perché prima di partire, quando ci siamo trovati, tramite sempre l'Antoni, che ci ha dato un contatto di giù, ci ha dato questo contatto di Rocca Manico, Caramanico scusate, dove ero io, provincia di Pescara, ma lui ci ha avvisato che le stradine, siccome metà dal paese è un centro storico, con i mezzi non si fa niente. Bisognava spalare a mano? Sì, noi eravamo contenti perché avevamo le frese, ma quando andavamo davanti con la fresa, la fresa si spegneva perché era ghiaccio vivo. Ecco, però all'inizio non avevate intenzione di portare le frese, no? Poi vi siete organizzati, la voce corsa? Sì, nel giro di due giorni, io e Fabrizio, abbiamo tra Facebook, Whatsapp, nei bar, abbiamo raggruppato, abbiamo sentito il Crupi, la ditta Crupi, ce ne ha offerte tre, ce ne ha date tre in prova e una, la ditta Edil G, che ringraziamo, di Solaccia, che ci ha dato anche la sua privata. Ok, Fabrizio Rodigare, tu hai coordinato tutto questo intervento da qui, che non immagino non sia stato facile, ma neppure tanto difficile, perché quello che conta in fondo è proprio la volontà. Abbiamo cominciato così dal niente, automaticamente tutto viene facile e difficile perché ti adatti un po' alle situazioni, un po' alle esigenze di quelli che erano giù, di quelli che erano qua, che volevano partire, un po' tutta un'organizzazione, un po' affrettata, l'abbiamo fatta in un paio di giorni, ce l'abbiamo messa tutta per proprio organizzare un po' le partenze, perché dopo ci siamo trovati in una situazione che uno voleva partire, poi non poteva, poi era meglio andare giù con le frese, perché se no con i badili non si faceva troppo e alla fine ce l'abbiamo fatta un po' organizzare un po' tutto. E come avete trovato le frese? Niente, ce l'hanno, ne abbiamo trovate in realtà di più di quelle che sono andate giù, alla fine, grazie a un po' tutti, alla fine abbiamo deciso di prendere quelle un po' più forti, un po' più potenti, anche perché quelli che erano già giù prima con i trattori hanno detto è inutile che venite giù con frese che non lavorano forte, perché c'è una neve che non vi immaginate neanche. Quindi grazie a Crupi e un altro privato di Isolaccia siamo andati giù comunque con delle frese a mano abbastanza potenti che hanno permesso poi ai ragazzi che erano giù di lavorare meglio, più veloce e liberare proprio queste stradine più strette dove gli altri mezzi più grandi non potevano passare, quindi si sono rese abbastanza utili. Certo. Davide e Cusine, anche tu sei andato con loro, forse più giovani? Certo. Il più giovane di loro. Raccontaci il viaggio. Allora il viaggio è stato lungo, pesante. All'inizio siamo partiti che dovevamo partire con un mezzo, taxi con il carretto, per caricare la roba che c'era. E solo che non stava tutto, allora ho deciso di prendere anche la mia jeep, che almeno dovevamo caricare più roba. Anche perché eravate in dieci? Eravamo anche comunque in dieci. Siete partiti la sera tardi? Siamo partiti la sera verso le otto, otto e mezza. Il viaggio è stato dodici ore. Tutta la notte avete viaggiato? Eh, tutta la notte, sì. Siamo arrivati alle dieci e mezza, undici. Cosa vi siete portati dietro? Ma io nella jeep avevo benzina per le frese, gasolio per almeno i nostri mezzi. E poi avevamo scaldine e tutta la roba che ci hanno donato la popolazione di Livigno. Siete arrivati la mattina? Siamo arrivati la mattina, il tempo di guardare dove andavamo a dormire e ci siamo cambiati e ci hanno fatto vedere dove dovevamo lavorare e siamo partiti subito, fino alla sera alle sette, sette e mezza. Come vi siete organizzati? Dove eravate esattamente? Ci siamo organizzati in due squadre. La prima squadra ha liberato un tetto così dalla forestale, dove c'è la forestale, e l'altro gruppo ha liberato, ha iniziato a liberare tutti i borghi e così ci hanno fatto vedere e abbiamo iniziato. Si sparava a mano e dopo abbiamo usato una motosega anche, tagliavamo i blocchi della neve, dopo spaccavamo con il pacca a ghiaccio e dopo con la fresina. Anche un lavoro fisico insomma? Eh, pesante, pesante perché la sera eravamo a via letto e andavamo subito a dormire. Ah, la sera sette e mezza, otto, cena e dopo subito a dormire. Perché la mattina poi vi alzavate presto? Sì, verso le otto, sì. Otto andavamo a fare un tempo di colazione veloce e dopo ho partito ancora questo giorno. Ma a certi punti dove eravamo noi, due metri e mezzo, tre arrivavano. Avete mai visto così tanta neve? No, no, neanche qua l'Ivigno ho visto così tanta neve. Antonio? Indescrivibile, no, no. Siamo rimasti scioccati, siamo usciti dall'autostrada, abbiamo intravisto le cime bianche, abbiamo detto, ci fa ridere. Quando ci siamo avvicinati al paese, roba da non credere. Cioè, dalla jeep, dal furgone, guardavamo i muraglioni di neve dal basso verso l'alto. Anche... E poi la neve che era, perché comunque era durissima, ti ho detto, era come scavare nella neve sparata uguale. Di giorno fa caldo, la sera scendeva meno 5, meno 6, era ghiaccio lì. Sì, come la neve sparata uguale. Ecco, ricordo che ci avevi raccontato al telefono che per fortuna avevate le pale, perché anche solo sollevare un badile continuamente sopra due metri di neve era faticoso. No, infatti, per fortuna, prima di partire ne abbiamo presi una decina in più, perché ne andavano 3 o 4 al giorno di badili, si scherzavano proprio. Sì, sì, è pesantissima la neve, Giulia, è immaginabile. Alzarla da qua e spostarla a due metri... Certo. Quanti giorni siete rimasti lì? Cinque giorni anche noi. Accoglienza strepitosa di queste persone che... Niente da dire, tutto fantastico, chi il pollo, chi la merenda, chi il panino, perché noi a pranzo non volevamo andare negli alberghi, se no consumavano troppo tempo e allora preferivamo lavorare e tirare fino a sera e mangiare solo un panino e poi mangiare bene la sera. Dove dormivate? Noi ci ha dato, eravamo nel parco della Maiella e la forestale ci ha dato una caserma con delle camere, eravamo divisi in tre camere, l'alloggio ce l'hanno dato loro. Anche lì situazioni piuttosto difficili, no? Sì, sì, abbiamo visto un tetto di una cresa crollato in pieno, il peso dalla neve l'ha aperto, case aperte per il terremoto, mai visto niente del genere. Paura? Ma neanche nei film. Ma paura noi all'inizio pensavamo nelle scosse di terremoto, poi invece no. Dalla neve no, ci siamo abituati, ma dal terremoto un po' all'inizio avevamo paura, soprattutto nel dormire, dici intanto che dormi, non ti accorgi. Però non mi siete mai svegliati? No, no, no. Ivan? Quindi nessun timore da questo punto di vista? No, su quell'altro lì. Noi no, invece la popolazione di giù addirittura, due coniugi che abbiamo conosciuto, dormiva un momento la moglie e un momento il marito, perché quando danno allerta a terremoto, è come qua quando mette neve, lì si spaventano tutti. Addirittura, ti ho detto, loro dormivano un momento la moglie e un momento il marito. Perché così almeno si alzavano e andavano via. Molta gente era isolata, era bloccata in casa? Ma non molta, perché quando siamo arrivati noi comunque le strade principali erano già state aperte, però a noi ci hanno dato di priorità da pulire. Avevamo gli anziani, i ragazzi con disabilità e i bambini neonati. Avevano una mappa, chi ci seguiva e ci diceva voi andate lì, voi andate lì e la priorità era far quello, liberare gli anziani, i disabili e i bambini. Immagino fossero felicissimi quando vi vedevano arrivare. Sì, guai, buon lavoro e dai fermatevi a bere una volta. Non avevano attrezzature adatte per liberare le loro abitazioni e le loro strade? In tutto, in quel paese dove siamo stati noi c'erano due mezzi, una palla e un trattore con una fresa, ma nei centri storici, nei borghi, a Malipena la fresa di Crupica era 90 cm, in certi punti non passava. C'era una casa attaccata all'altra lì. Ecco, ma avevano badili queste cose o non sono zone dove notoriamente nevica? No, di solito nevica, ma come diceva prima Ivan, anche lì non hanno paline, non hanno niente per segnalare ostacoli o tavoli. Loro addirittura, siccome la neve è così dura, ci camminano sopra proprio. Sai, chi esce di casa e cammina sopra, ma non la puliscono. Certo. Signor Sindaco, abbiamo sentito un po' il racconto, che è solo una parte di quello che hanno vissuto loro ovviamente, è solo una breve testimonianza. In realtà abbiamo sentito molto di più, abbiamo sentito delle storie anche molto difficili. Una situazione impensabile, anche per, probabilmente, per un comune come il suo a 1800 metri. Sì, sì, no, infatti dai racconti fatti, effettivamente l'agente Livigno, secondo me, non ha percepito esattamente le problematiche che c'erano giù, parlando, vedendo le immagini delle televisioni e quant'altro. Invece con loro che hanno partecipato in prima linea, effettivamente la situazione non era così tranquilla come si pensava. C'è stata anche la gente che diceva, ma sì, è perché non pulivano la neve se stavano indietro mano a mano. Ma la realtà è che, purtroppo, lì la precipitazione è stata. In tre giorni è scesa la neve e che a Livigno scende in sei mesi, praticamente. Quindi è stato un momento difficile per giù. Positiva, invece, l'esperienza che hanno fatto i ragazzi, come si suol dire, che gli va riconosciuto la massima stima perché si sono organizzati da soli, senza bisogno che ci fosse l'istituzione che li attivasse. Non hanno chiesto aiuti al comune. Non hanno chiesto aiuto, hanno solo chiesto l'aiuto al comune quando c'è stato il problema per far passare alla dogana le merci. Per le pratiche, diciamo. Per le pratiche, diciamo, per espletare quello che era la parte burocratica. Ma per il resto si sono organizzati da solo. Mi hanno inserito da subito nel gruppo di WhatsApp. e diciamo che era martellato 24 ore su 24 da parte di tutti e hanno creato una rete molto attiva. Quindi hanno creato i volontari, ma non solo, anche chi ha lavorato da qui per organizzare il tutto. Per esempio anche con la raccolta fondi, perché a un certo punto è partita anche la raccolta fondi, quasi simultaneamente, ma senza che ci fosse la richiesta da parte loro. Chiaramente poi da lì loro hanno dovuto organizzarsi e decidere come muoversi, che penso che non è stato facilissimo, però alla fine si sono organizzati un po' su tutto. C'è a dire che non è ancora stato detto che oltre all'intervento a parte del gruppo di Livigno, nel gruppo di WhatsApp c'era anche gente di Sondrio attivissima che ha collaborato a 360 gradi. Che si è aggregata loro? Si è aggregata loro dal gruppo di Livigno e immediatamente è partita anche la raccolta, i fondi in una parte sono già stati utilizzati per esempio per la fornitura del foraggio alle stalle, visto che uno dei primi problemi che c'erano era quello di portare il foraggio, visto che era tutto sotto la neve e maggior parte delle stalle giù sono crollate, perché non sono le stalle chiaramente costruite con le caratteristiche di quelle di Livigno. uno dei primi problemi era portare anche l'aiuto per quanto riguardava gli animali. In tempo quasi zero, in due giorni, hanno raccolto 7 bilici di fieno e sono partiti grazie proprio alla rete che è stata costruita in questa situazione. Chiaramente adesso di fatto si è creato un gruppo che dovrà impegnarsi anche per il proseguo perché ci saranno sicuramente altre attività da portare avanti perché l'inizio è l'emergenza ma poi verrà il momento per esempio della ricostruzione e potrebbe essere un altro momento in cui possono dare delle risposte efficaci. Quello va però meditato maggiormente per fare un'operazione programmata ma anche un'operazione che ricada su tutto o una cittadina o un paesino non può andare sull'unica, l'aiuto alla singola persona. Certo. Ecco, abbiamo sentito più di un mezzo per portare fieno in aiuto ai contadini ma non solo perché avete raccolto merce e anche soldi con molta velocità e facilità. Questo è dimostrazione anche che la vostra volontà è stata condivisa e quindi avete avuto tanti amici, tanti sostenitori. Sì, è stata una cosa che non pensavamo neanche di fare in prima persona non ci saremmo mai messi a... non l'avremmo mai pensato praticamente. Dopo da una chiamata veloce così al bar proprio ha detto mi chiamo l'Antonio, mi ricordo bene quel giorno lì che è poi il giorno nel quale sono partiti Desi e Ivan mi chiama e mi dice guarda, dobbiamo mettere insieme qualcosa perché sono giù Alessandro e gli altri con i trattori e non hanno i soldi per pagare il gasolio o comunque sono partiti pensando di trovare un po' più aiuti anche dalla parte giù. È nato tutto così abbiamo messo lì, io mi ricordo ero al mochino eravamo lì su un tavolo abbiamo messo magari i primi 20 euro per uno abbiamo raccolto quello che era e dopo alle 4 sarebbero partiti loro e quindi obiettivamente la raccolta fondi è partita da lì da l'una e mezza e doveva finire alle 4 del pomeriggio In due ore quanto era raccolto? In due ore. E alla fine siamo arrivati con più o meno 3000 euro in due ore anche grazie a un messaggio che abbiamo fatto un po' girare su Facebook e i vari gruppi di WhatsApp abbiamo raccolto già tanto in quelle due ore lì poi ecco i soldi quelli li abbiamo già dati a quelli che scendevano che era il nostro interesse fare per portare subito i primi aiuti a chi era giù e poi niente è andata avanti fortunatamente anche perché con quei soldi lì siamo riusciti a pagare tutte le rotture e che sono stati fatti i mezzi le spese di viaggio eccetera e quindi ecco senza di quelli probabilmente si sarebbe magari fermata prima anche tutta la macchina organizzativa anche perché giustamente va bene il tempo va bene la buona volontà ma poi ci vogliono anche soldi per procedere e per andare a risolvere un problema anche perché questo ha permesso a loro di essere assolutamente indipendenti cioè di continuare ad operare senza dover chiedere niente a nessuno lì sul posto che erano già in difficoltà sì, loro si sentivano da questa parte ecco le spalle coperte per poter operare senza grosse difficoltà giustamente dopo quando ci si trova in quelle situazioni lì non è facile comunque sia anche se hai magari una mano economica dietro ma comunque sia non è facile proprio da affrontare oltre a questi sono stati raccolti altri di fondi? sì, sono stati aperti anche perché è stata tutta una cosa come dicevo prima talmente veloce che all'inizio abbiamo preso in contanti diciamo poi obiettivamente abbiamo avuto l'esigenza proprio di gestirli questi fondi automaticamente noi come Livigno ci siamo appoggiati sul conto dei Vigili del Fuoco anche perché obiettivamente erano troppo difficili proprio come gestione automaticamente abbiamo avuto l'appoggio non avendo già una onlus nostra niente di nostro un'associazione un conto e niente all'associazione dei volontari dei Vigili del Fuoco? sì, abbiamo praticamente destinato trasferito un po' come punto di raccolta soldi oltre ai soldi che cosa avete raccolto? ma abbiamo raccolto ecco una cosa che c'era arrivata dalla chiamata di quelli che erano giù un paio di ciaspole eccetera e alla fine è arrivata tanta tanta merce diciamo ciaspole piuttosto che i badili che poi sono andati giù con l'altra squadra quindi serviva anche attrezzatura e altri ingineri sì serviva altra attrezzatura servivano serviva un po' di tutto perché dopo quel punto lì anche le popolazioni giù si sentì erano avevano un po' perso tutto quindi quindi ecco proprio la popolazione di Livigno si è adoperata e ci ha portato tante cose che poi abbiamo dovuto gestire anche quelle perché anche su quello anche su quello non eravamo preparati quindi ecco anche vestiti ma vi hanno chiesto specificatamente di portare vestiti? ma un po' sì un po' no ci è stato chiesto un po' di vestiti ma noi prima di tutto volevamo darli a quelli che erano giù perché li vedevamo in mezzo alla neve davanti ai trattori che dovevano camminare sopra questa neve per far vedere la strada insomma da fresare eccetera ecco le prime cose le ciaspole eccetera servivano principalmente per i nostri volontari poi ne abbiamo raccolte talmente tante che poi alla fine abbiamo deciso di destinarle giù di lasciarle giù comunque la prima un po' di roba è partita prima con la seconda squadra con il rimorchio e la jeep e invece poi abbiamo dovuto fare altri un'altra spedizione di due bancali di questi generi ecco per destinati alle popolazioni giù Ivan se non ricordo male quando vi siete ritrovati per insomma preparare i pacchi eccetera che dovevate spedire vi siete resi conto che vi avevano dato tante cose anche tante cose un po' inutili perché poi la gente a volte svuota gli armadi svuota gli armadi ecco fa il cambio stagionale come si dice a Livignano cambio anticipato ecco anche questo vi ha riempito i garage quindi avete dovuto chiedere anche una location dove portare la merce quindi si si ringraziamo il bar The King che il Cusini Armando ci ha fornito il suo montauto che girava quasi 24 ore al giorno su e giù a portare roba e l'abbiamo riempito in un attimo e cosa avete fatto con tutta questa merce ma una sera ho chiamato Ivan ho detto Ivan mettiamoci le mani nei capelli che dobbiamo iniziare a sistemare tutto bene nei cartoni quindi vi siete messi lì a piegare vestiti scarpe abbiamo aperto tutto per controllare comunque che ci sia stata roba e selezionato sì sì abbiamo selezionato quello che andava bene quello che non andava bene giustamente e poi facevamo misti un po' bambini un po' adulti perché c'era comunque anche tanta roba di bambini dove siamo stati noi era addirittura crollata una scuola e tramite il contatto di Anthony molta di quella roba andava proprio in questa scuola per i bambini e per gli elementari Sindaco c'è un altro aspetto che va considerato oltre alla loro buona volontà anche alla loro posizione perché molti di loro sono dipendenti Davide tu che cosa fai per esempio? Io il Fabro Sei dipendente? Sì E cosa hai detto al tuo datore di lavoro? Ho chiesto domenica mi ha chiamato Antonio mi ha detto se volevo andare con loro e io ho subito accettato ho chiamato subito il mio capo era una domenica gli ho detto che c'erano dei volontari e mi sarebbe piaciuto andare con loro a dare una mano e Cosa ti ha detto? Sì sì che era una bella cosa e Di andare? Sì sì mi ha detto di andare Lo rifaresti? Sì Antonio? Uguale idem quando ho organizzato il tutto anche io ho chiamato il mio capo gli ho detto io scappo ciao vado a aiutare l'Abruzzo in questo momento hanno bisogno loro e anche loro da parte loro mi hanno detto subito si vai non c'è problema per il rientro quando vieni vieni prendi e vai Ivan? Idem come loro abbiamo chiesto ho chiesto e mi hanno detto vai Gli altri ragazzi? Idem uguale infatti abbiamo aspettato proprio quei due giorni in più e in due giorni dieci persone si sono organizzate tutte e martedì sera alle nove eravamo pronti per partire al Bar The King tutti insieme no no su quello tanto di cappello a tutta la popolazione ed attori di lavoro che ci hanno assistito che comunque da giù mandavano foto è stato come una ruota che gira una cosa più grande di noi certo anche questo è un aspetto non indifferente sì è un aspetto non indifferente perché la dimostrazione è che la cittadina di Livigno la cittadinanza di Livigno è sensibile in particolar modo in questi momenti e quindi c'è una collaborazione a 360 gradi tant'è vero che anche solo la raccolta fondi vestiti e attrezzature è stata fatta quasi in tempo zero a dimostrazione che a Livigno basta parlare quando c'è la necessità c'è la risposta immediata è chiaro che ci vuole però qualcuno che tenga le fila e porti avanti l'iniziativa e su questo va riconosciuto proprio a loro e a chi assieme a loro ha collaborato per raggiungere questo obiettivo che inizialmente come diceva Fabrizio non era partito con lo stesso principio lo stesso non sono partiti con le idee chiare di dire facciamo una raccolta fondi facciamo quello si volevano aiutare tra di loro ecco volevano dare una mano e in realtà si è trasformato in una bellissima operazione di sostegno e di aiuto a una popolazione che era obiettivamente in difficoltà un ringraziamento anche alla famiglia Alberoni che si è attivata per per dargli un primo supporto e i contatti per la logistica per la logistica chiaramente ecco c'è da dire una cosa che forse loro mai non dicono ma a livello di protezione civile effettivamente c'è stata una grossa carenza giù a livello organizzativo perché credo che il grosso aiuto da parte della macchina operativa della protezione civile non sia stato è stata più un'iniziativa tra volontari e l'assessore piuttosto che il consigliere comunale che ha organizzato perché la macchina della protezione civile è stata molto carente in questa operazione ma si è visto anche le televisioni l'hanno rimarcato e questo ha dimostrato veramente un po' di inefficienza e voglio dire molte volte è proprio invece grazie al volontariato e alle persone che hanno voglia di fare che si riesce a ottenere magari anche di più di quello che hanno ottenuto i gruppi organizzati un'altra cosa che magari giustamente io ho ricevuto i ringraziamenti dal sindaco e da un assessore del comune di Farindole perché la prima squadra con il trattore erano andate a liberare le vasche di adduzione dell'acqua perché in realtà Farindole era senza acqua erano isolati e avevano problemi anche di tingimento dell'acqua potabile grazie a loro che sono riusciti ad arrivare a liberare la strada per raggiungere le vasche dove sono stati portati anche i gruppi elettrogeni per attivare le pompe sono riusciti a riattivare l'acqua potabile nella cittadina di Farindola e ecco mi è arrivato l'amministrazione il ringraziamento che giro chiaramente a loro perché in realtà l'onore in questo momento è stato proprio il loro impegno in questa operazione Antonio anche tu hai ricevuto ringraziamenti ufficiali sì anche noi prima di partire la sera il sindaco ci ha organizzato una cena in un ristorantino del posto a Caramanico Terme e finita la cena mi ha chiamato lì a capotavola e ci ha consegnato anche a noi un attestato di stima e riconoscenza per i lavori che abbiamo svolto e per aver dimostrato ai giovani il senso di dedizione e voglia di farne praticamente anche a noi sono stati riconoscentissimi anzi ci hanno detto che arrivevamo da un altro mondo addirittura quindi sei anche molto soddisfatto e orgoglioso di questo sì sì noi eravamo già soddisfatti ma quando quella sera ci ha consegnato davanti a tutti l'attestato ho visto che tutti i miei amici hanno alzato il sorriso erano tutti contenti e soddisfatti comunque ricordo che ci resta anzi addirittura ho sentito una mia amica così settimana prossima i primi di marzo vogliono salire a trovarci qua il sindaco più altri due assessori del quel comune e forse il primo weekend di marzo vengono a Livigno a trovarci e a ringraziarci ancora e qualche ringraziamento è arrivato anche attraverso la nostra emittente sono stati dei ragazzi fantastici giustamente se prova ad immaginare il mio paese non è un paese dove c'è sempre la neve a volte capita la neve quindi loro con la neve giustamente ci vivono sono esperti hanno lavorato notte e giorni stangabilmente sono dei ragazzi da premiare io li ringrazio li ringrazio per tutto quello che hanno fatto loro sono stati con precisione in un comune che si chiama Caramanico Terme dove c'era circa due metri due metri e venti di neve lo avete già detto non finisce qui vi siete già riuniti vi siete già riorganizzati per decidere come come agire ora avete anche un bel gruzzolo da gestire sì adesso stiamo finendo di pagare un po' tutti i conti che stanno continuando ad arrivare giustamente anche perché è giusto così stanno pensiamo di avanzare un po' di soldi e stiamo anche pensando tra l'altro in collaborazione con la Silvia di Sondrio che si è aggregata anche lei in questo gruppo e grazie a lei abbiamo svolto altre attività per esempio come diceva abbiamo usato già qualche fondo per il gasolio dei camion del fieno che sono partiti dalla Valtellina eccetera adesso abbiamo pensavamo di mettere tutto assieme e di creare un'associazione un qualcosa da magari tenere un pochettino da parte e riutilizzare in caso di altre necessità che possono essere magari ancora un terremoto un'altra non lo so mi viene in mente una valanga un'altra calamita anche in tutta la Valtellina e non solo anche nel resto dell'Italia così da partire giustamente già un pochettino con i piedi parati la prossima volta senza senza magari stargli ancora aspettare dire no aspetta e partiamo già e basta i volontari ci sono hanno dato una prova di quello che sono quello che stanno a fare e quindi perché no se c'è da aiutare speriamo di farlo Ivan il sindaco ha già detto bisognerà pensare anche alla ricostruzione voi ne avete parlato di questo di tornare magari lì sul posto e quindi come diceva Fabrizio da questo punto di vista ci siete se si troverà un progetto da condividere adesso ci siamo ritrovati settimana scorsa noi qua di Livio e quelli di Sondro che comunque sono venuti a Livio? sì sono venuti sono venuti qua ci siamo trovati e stiamo decidendo dove destinare una parte dei soldi in cosa possono essere utili certo la stiamo valutando un po' tutti insieme adesso decideremo ma ci tornereste giù se fosse necessario? se c'è bisogno sì anche domani i fondi li abbiamo i mezzi li troviamo ormai abbiamo abbiamo già avuto una prova ma in un attimo partiamo Davide? se c'è bisogno torneremo quest'anno hanno di coscrizione finite le feste magari potreste riunire le forze per coinvolgeresti qualche tuo coscritto? ma con me c'erano già nel secondo gruppo due coscritti Fabio Sertorio e Giacomo così quindi insomma quindi ci sono anche loro sindaco non ci resta che ringraziare questi ragazzi per quello che hanno fatto sì il mio ringraziamento è proprio per innanzitutto per lo spirito perché quello è stata la cosa più importante il motore che ha mosso questa questa macchina poi l'impegno perché comunque ci ha voluto anche l'impegno perché non basta parlare ma si sono dimostrati i ragazzi del fare questo ci tengo a rimarcarlo perché non sono stati lì a fare tante chiacchiere hanno operato e alla fine hanno operato bene organizzandosi in tempo zero quindi si attivino perché li faremo fare il gruppo volontari e li inseriremo nel registro dei volontari di Livigno e poi li attiveremo anche sulle non per forza le emergenze ma anche le attività che vengono svolte a Livigno si è formato un gruppo un gruppo che si è affiattato grazie ai social in particolar modo al gruppo di Whatsapp perché sono attivi ti svegliano anche alle due di notte con i messaggi dettagli no però molto attivi e quindi perché perché no per creare appunto un gruppo che speriamo che non succeda mai però se ci fosse una futura emergenza può essere un gruppo che si affianca e si organizza per affiancarsi magari ai gruppi di protezione civile anche locali una domanda signor sindaco ovviamente questi ragazzi sono armati di energie forza di volontà eccetera quindi non c'è bisogno di fare un corso per spalare la neve ma per intervenire in casi di emergenza eccetera sono necessari invece dei momenti formativi per esempio sì sicuramente sicuramente andrebbe come succede e come dovrebbe succedere anche con i gruppi di protezione civile che è quello che è un po' venuto a mancare negli ultimi anni a livello nazionale a parlo sempre dove forse si è lasciato un po' correre quello che è invece la formazione perché è determinata la formazione e imparare a lavorare in squadra perché è determinata anche quello perché se si va singolarmente probabilmente non si potranno mai raggiungere gli stessi obiettivi il fatto invece di riuscire a stare in gruppo e lavorare in gruppo è determinata per far questo chiaro ci vogliono corsi formazioni però vedo che alcuni di chi è andato già fa parte in questa occasione fa già parte di organizzazioni di associazioni e di gruppi che operano in quella direzione nell'emergenza quindi è chiaro che diventa un po' tutto più facile sotto quell'aspetto perché si ha anche l'esperienza ringrazio il sindaco Damiano Bormolini grazie e naturalmente i ragazzi Antonio Battagliese Fabrizio Rodigari grazie Ivan Bormolini grazie e Davide Cusini grazie anche voi da casa che ci avete seguito Grandangolo vi dà appuntamento a venerdì prossimo arrivederci a venerdì prossimo che ci avvicini a venerdì prossimo a venerdì prossimo a venerdì prossimo Grazie a tutti.